Allora, mi trovo a Castiglione del Genovese, davanti alla casa famiglia dove sta mio figlio. Sono andata a consegnare tutto ciò che gli serviva mio figlio della biancheria, dei guadernoni. E' uscita l'opera del celpre. Io ho chiesto di parlare col presidente della struttura. Il presidente della struttura non è uscito fuori, ha fatto uscire un'opera trice molto scostumata che non ha detto né buongiorno né buonasera e mi ha sbattuto l'ha detto non posso accettare le cose per Lorenzo e mi ha sbattuto la porta in faccia e questi sono gli obbevatori e il presidente della struttura che tengono danno educazione ai bambini della casa famiglia persone che non ti salutano ti sbattono la porta in faccia. La mamma, la mamma, la mamma questa qua che ha il bambino chiuso nella casa famiglia a Salerno è stata trattata come un cane mi hanno sbattuto la porta in faccia e questi sono e queste la gente sono le persone, i professionisti che tengono in mano il mio bambino, il mio figlio e la gente che ascolta queste cose non mi aiuta, fa ancora più schifo perché nessuno mi aiuta.